buongiorno a tutti ragazze e ragazze ben ritornati in questo nuovo video io sono angela e oggi vi narrerò la puntata speciale di sabato 12 settembre perché le ali del sogno tornerà con un nuovo appuntamento speciale dalle ore 14 10 fino alle ore 16 gli spettatori di canale 5 potranno rivedere la nostra sopra preferita e guardiamo che cosa accadrà per quanto riguarda i nostri beniamini jean e sanem che cosa succederà nel primo episodio di daydreamer leali del sogno fabri sa che jean lo sta cercando ma prima vi racconto brevemente cosa è accaduto nella puntata del lunedì 7 settembre abbiamo visto la signora geida sempre più disposta a conquistare jean e questo scatenerà proprio la gelosia di sanem nel frattempo però e linee del suo fabri hanno un nuovo piano diabolico l'italo francese infatti ha incaricato a in in di essere la sua portavoce nell'azienda fichiarica e la perfida donna contenta andrà proprio in azienda a comunicare a tutti la lieta notizia non apprenderanno bene soprattutto hermè e jean quest'ultimo correrà immediatamente nell'azienda di enzo fabri per affrontarlo ma eccoci con le anticipazioni di sabato 12 settembre gli avvocati di enzo fabri insieme ad aylin si sono presentati alla fichiarica con un chiaro messaggio fabri non intende accettare di rivendere a jean le sue quote dell'azienda e così ha stracciato il suo assegno jean arrabbiatissimo e furioso arriva nell'azienda proprio di enzo fabri nel cercare l'imprenditore ma lui appena lo vede prova a nascondersi le sue segretari così mentiranno al fotografo dicendo che il loro capo si trova in viaggio nel frattempo nell'ufficio hermè urla contro aylin accusandola di aver fatto il doppio gioco ma sanem non si fida e l'accuserà nuovamente di sortifuggi nei confronti del fratello così enbre poporna un accordo proprio alla giovane ragazza allontanerà per sempre aylin se lei sparirà dall'azienda sanem non accetterà la proposta del fratello minore di jean così passerà al contrattacco sanem e jj lo terranno sotto controllo l'amico di sanem ascolterà una conversazione telefonica di enbre e racconterà proprio alla sua giovane amica che l'uomo ha un appuntamento così lo seguiranno pensando che il ragazzo abbia appuntamento proprio con la ilin ma al tavolo del ristorante troveranno un'altra persona e rimarranno così stupiti nel frattempo jeida passerà alla conquista di jean e si farà scattare delle foto proprio da lui ma sanem non si farà scopole e sabotare la macchina fotografica e cancellerà così tutto il lavoro svolto da jean queste le anticipazioni di sabato 12 settembre voi continuate a seguirmi iscrivetevi al mio canale lasciate il mio like di supporto e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video